L'internazionalizzazione è la ricetta vincente per provare ad affrontare la crisi economica che sta attanagliando le imprese. Il Montenegro, per esempio, rappresenta un'ottima opportunità di crescita per il tessuto imprenditoriale. Se ne è parlato ieri ad Andrea nel corso di un incontro con tutte le imprese e le associazioni di categoria del territorio, interessate ad interfacciarsi con le imprese montenegrine dei corrispondenti settori. Dopo i primi incontri, durante i quali si sono gettate le basi per una nuova piattaforma comune con soggetti pubblici e privati, che affrontasse i mercati esteri, ieri si è giunti al punto di concretizzare questa forma di collaborazione, offrendo agli imprenditori la possibilità di recarsi in Montenegro, dialogando con un nuovo tessuto imprenditoriale per trovare nuova linfa e al contempo portare ossigeno all'economia del territorio. Stiamo testendo una serie di rapporti che stanno creando veramente un'occasione, ritengo strategica, perché è un mercato nuovo, è un mercato che consente non soltanto di creare opportunità di scambi commerciali, ma anche opportunità di nuovi mercati per i nostri imprenditori, ma consente anche di mettere in vetrina i nostri prodotti, le nostre tipicità, le nostre bellezze di questa terra fantastica che se opportunamente promossa può diventare una fonte importante, non soltanto dal punto di vista turistico e culturale, ma anche una fonte importante a livello occupazionale per i nostri giovani. All'incontro vi hanno preso parte il presidente della provincia Francesco Spina, il consigliere provinciale con delega alle attività produttive Antonia Spina, il presidente della Camera di Commercio di Foggia Fabio Porreca e i rappresentanti delle associazioni di categoria delle imprese locali.